Il terzino destro, classe 99, di origini ascolane, giunge alla corte di Cornacchini con la formula del prestito dalla Fermana, che l'aveva prelevato a titolo definitivo dall'Ascoli. Nelle ultime due stagioni Aloisi ha giocato nel Monticelli in Serie D, collezionando 32 presenze e un gol. L'annuncio confermato dalla società biancorossa è comparso in un comunicato della Fermana. Il terzino destro, già da martedì, si trovava al Mancini Parcotel di Roma, dove la squadra è in ritiro. Se per Aloisi c'è già l'ufficialità del suo trasferimento al Bari, per Mattere e Cacioli è solo questione di tempo. I due esperti difensori si allenano da martedì con la squadra di cui sembrano già essere diventati leader. Mentre la linea difensiva va componendosi, a centrocampo scalpita Alejandro Zamudio, calciatore messicano ventenne che proprio ieri ha sostenuto le visite mediche, di cui si dice un gran bene e che, chiusa l'esperienza al Pumas in patria, è attualmente svincolato e in prova nel ritiro romano dei biancorossi. Grazie a tutti.